Santo Spirito, un quartiere da reinventare. Questo è il tema retino della 21esima edizione della giornata FAI di Primavera. In programma sabato 23 e domenica 24 marzo è promossa dal Fondo Ambiente Italiano per la salvaguardia e la promozione del patrimonio artistico e naturalistico. Lo scopo di questa giornata FAI di Primavera è anche quello di ricostruire un quartiere che non c'è più, creando dei punti di interesse molto importanti, cominciando appunto dai resti archeologici medievali del vecchio Duomo di Pionta, partendo dal nuovo museo dei bastioni, del museo del quartiere di Santo Spirito. L'altra eccellenza di queste giornate è valorizzare il Colle di Poggio del Sole, valorizzeremo ovviamente il Palazzo della Profettura, il ringraziamento va al dottor Saverio Ordine che ha dato disponibilità totale a questo proposito. L'iniziativa vede anche il coinvolgimento dei più giovani che per l'occasione diventeranno apprendisti ciceroni. Sono giovani studenti aretini delle scuole superiori che vengono da noi formati e riceveranno quindi visitatori e li guideranno nei beni aperti. Siamo molto felici di essere ancora qui con tutti voi, vi invitiamo a venire ad Arezzo, vi invitiamo anche, siccome la nostra è anche una giornata di raccolta fondi, a versare un piccolo contributo di 2 euro al numero verde 45501.